Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come avevo preannunciato nel video scorso, oggi torno con altri due squad builder e stavolta si tratta di due team ibridi veramente devastanti. Prima di andarli a vedere però ci tenevo a dirvi che in descrizione trovate il link del gruppo Telegram aperto a tutti. Chi segue le live sulla piattaforma Viola già lo conosce, magari c'è già dentro, è una bella community dove ci sono anche io, si parla di FIFA, di quello che più vi pare, nel rispetto ovviamente degli altri. Mi fa piacere se questo gruppo crescesse durante quest'anno in maniera tale da avere una community sempre più ampia che faccia circolare le giuste informazioni. Quindi se volete raggiungerci vi aspettiamo e trovate il link in descrizione. Detto questo passiamo subito all'azione e andiamo a vedere le due squadre che ho preparato per voi. In particolar modo vedete che mi trovo su Footmind, ovvero il sito che ha leakato il database completo di FIFA e che ci ha permesso anche adesso di poter fare degli squad builder. Quindi le carte che andrete a vedere in questo video sono effettivamente le versioni di FIFA 22 di quei giocatori e se cercate Footmind su Google potete divertirvi anche voi a fare questi squad builder. Il modulo che ho utilizzato per ibridare in questo caso è il 4-5-1, però questa è una squadra costruita per essere giocata con un 4-1-2-1-2-4-3-1-2, quindi il classico albero di Natale, che è sempre efficace, si è riscoperto durante FIFA 21, sulla beta di FIFA 22 che abbiamo giocato fino al 2 settembre si è dimostrato un modulo molto buono, quindi oggi anche sulla base dei commenti del video precedente ho pensato di buildarla su questo schema. Partirei dal portiere, portiere che è Marchesin, ovvero portiere argentino del Porto, e questo ci dà già un primo spunto, perché quest'anno il campionato portoghese, la Liga NOS, ci dà veramente tanti giocatori buoni, soprattutto nel reparto arretrato. Quindi partiamo da Marchesin in maniera tale che poi lui ci dà lo spunto per poter inserire tutti questi giocatori molto buoni. E andiamo a vedere il terzino destro, terzino destro che è Wilson Manafa. Wilson Manafa dotato di un'ottima velocità, una buona difesa, un buon dribbling, un buon fisico, pecca magari nel passaggio che comunque sappiamo essere una caratteristica normale per un terzino, però stiamo comunque parlando di giocatori cheap che dobbiamo sfruttare all'inizio del gioco e che comunque ci rendano bene. Quindi Manafa nel ruolo di terzino destro. Nel ruolo di difensore centrale, un giocatore che io mai avrei potuto pensare di ritornare a utilizzare su FIFA, ossia il buon Pepe, che alla veneranda età di 38 anni ha ricevuto addirittura 80 di velocità, 82 di difesa e 87 di fisico, per un giocatore che comunque è molto alto. Io adesso vi dico che onestamente sono un po' preoccupato perché non so se questo boost che ricevono i difensori centrali in velocità, perché Pepe non è un unico caso, ce ne sono anche altri giocatori super pompati, mi spaventa perché non vorrei che comunque il meta sia basato molto sui filtranti come l'anno scorso e quindi invece di potenziare i filtranti hanno pensato di aumentare la velocità dei DC per evitare che vengano messi i terzini. Però, ripeto, è ancora questo un punto interrogativo, però la questione inizia un po' a puzzarmi. A far compagnia a Pepe, nel lato di sinistra della difesa, abbiamo un altro giocatore molto molto carino, ovvero Lucas Verissimo, difensore centrale in questo caso del Benfica, anche per lui 81 di velocità, 80 di difesa e 79 di fisico. Diciamo una sorta di Militao della Liga NOS che sicuramente sarà più cheap visto il campionato, ma comunque la nazionalità per ibridare è comunque buona. Terzino sinistro, un giocatore che, diciamo, gli utenti di FIFA sicuramente conosceranno, il buon Grimaldo, 87 di velocità, 83 di dribbling, 81 passaggio, 74 difesa e 71 fisico, quindi un giocatore molto completo che ci permette di poter ripiegare, di poter spingere, di poter servire bene i compagni sulla fascia, quindi un giocatore a tutto tondo che per iniziare non fa mai male. Passiamo a vedere invece quella che è la catena di centrocampo fondamentale per il 4-1-2-1-2 e andiamo a vedere un giocatore che linka, appunto, tutto il discorso relativo al campionato portoghese, ovvero Jadson Fernandes. Chiacchieratissimo in quest'ultima finestra di mercato, sembrava che dovesse andare un po' da tutte le parti, invece rimane al Benfica. 79 di velocità, 70 di tiro, 75 di passaggio, 75 di fisico, 80 di dribbling e 71 di difesa, quindi praticamente una mezzala perfetta, visto che comunque è rapida, un discreto tiro, un buon passaggio, un buon dribbling, oltre che anche buone dote di fisicità e difesa, quindi centrocampista a tutto tondo che per iniziare va veramente, veramente bene. Per continuare il reparto di centrocampo andiamo invece questa volta in Bundesliga e in particolar modo nel Borussia Dortmund. Qui andiamo a selezionare due giocatori molto interessanti. Il primo è Bellingham, un altro giocatore giovanissimo sfornato dal Dortmund che riceve un ottimo upgrade rispetto alla carta base dell'anno scorso, che era argento. Infatti ha 75 di velocità, 73 di passaggio, 80 di dribbling, 75 di difesa, 77 fisico e 69 tiro, quindi anche lui possiede, almeno sulla carta, quelle che sono le statistiche per essere un'ottima mezzala, anche perché comunque parliamo di un giocatore abbastanza alto, ma snello, che comunque in game si fa sentire. A concludere questo reparto andiamo a utilizzare Emre Khan, un altro giocatore che a inizio FIFA è veramente super utilizzato, quasi 80 in tutte le statistiche, infatti ha 78 velocità, 78 tiro, 78 passaggio, 80 dribbling, 84 difesa e 87 fisico. Nell'andare a schierare questi tre centrocampisti, io metterei Khan nel ruolo di CDC, tra virgolette, e utilizzerei Fernandes e Bellingham come mezze ali, per sfruttare quella che è la loro fisicità, e andiamo invece a prendere Emre Khan come mastino, che è quello che ha la miglior difesa e il miglior fisico a recuperare palloni. Per andare invece adesso nel reparto avanzato, partiamo da quello che è il giocatore che io andrei a utilizzare da COC, ovvero il nostro esterno di sinistra, che è esattamente Everton. Esterno sinistro del Benfica, 86 di velocità, 75 tiro, 73 passaggio e 85 di dribbling. Quindi tutti quelli che sono gli attributi per poter fare un COC di partenza molto buoni, in più lega perfettamente con Grimaldo, e al momento non abbiamo alcun tipo di problema d'intesa, perché qua Footmind l'unico problema che ha è che non cambia i ruoli rispetto appunto a quello che è la carta di partenza. Quindi vedete che qui abbiamo Bellingham a 5 d'intesa, ma non vi preoccupate che la squadra ovviamente arriva a 100, è perfetta, è ibridata nella maniera corretta. Per andare a vedere invece le due punte, dobbiamo fare un mix tra Bundesliga e campionato portoghese. Il primo giocatore che andiamo a schierare attaccante è Rafa. L'abbiamo scoperto praticamente su FIFA 20 con quella carta Tozzi illegale, ha ricevuto negli anni delle carte comunque buone, e infatti qui presenta 94 di velocità, 73 di tiro, 74 passaggio, 86 di dribbling. Quindi statistiche che comunque gli permettono di sfruttare magari un filtrante, di arrivare in aria, servire il compagno, poter finalizzare. Rafa si va a inserire perfettamente all'interno di questa squadra. E infine, a concludere, la ciliegina sulla torta, il giocatore che probabilmente costerà un po' di più è Malen. Un altro acquisto del Borussia Dortmund, una carta che ha avuto una crescita pazzesca, 90 di velocità, 79 di tiro, 83 di dribbling, 74 di fisico e 72 di passaggio. Che quindi va a concludere il reparto avanzato insieme a Rafa, e completa un pacchetto offensivo dotato sia di velocità che di precisione comunque davanti alla porta. Quindi questa è la prima squadretta che ho buildato. Secondo me potrebbe andare sui 60-70 come prezzo. E insomma, per iniziare va più che bene. La seconda squadra invece, anche qui, va a mixare sia il campionato portoghese, sia la Bundesliga, ma stavolta andiamo ad inserire anche un pizzico di Liga Spagnola. E partiamo nuovamente dal portiere. Portiere che Romain Burk, questo che all'epoca era il classico dei fodder, perde di overall, ma a noi ci interessa per l'intesa, e quindi lo andiamo a schierare tra i pali. Terzino destro e difensore centrale sono due vecchie conoscenze della squadra precedente, ossia Wilson Manafa e Pepe, che quest'anno secondo me saranno tanto utilizzati, raga, intanto un saluto agli amici dell'ambulanza che stanno passando. saranno tanto utilizzati sulla catena di destra per fare dei triangoli e dare delle ottime intese alla nostra squadra. Sul lato di sinistra invece troviamo stavolta la Bundesliga. Il primo giocatore che andiamo a sfruttare è Akanji, un difensore completissimo con 81 di velocità, 81 di difesa, 77 di fisica e addirittura 74 di dribbling, che gli permette magari di potersi anche disimpegnare palla al piede in maniera molto molto buona. Quindi Akanji sicuramente è il giocatore che fa al caso nostro. Sull'out di sinistra in difesa invece andiamo a prendere l'ischitano Nico Schulz, che nonostante abbia ricevuto un downgrade ha comunque un'ottima carta, infatti ha 86 di velocità, 72 di difesa, 76 di fisico, 73 di dribbling e 72 di passaggio. Quindi una carta più che onesta e se non ricordo male dovrebbe essere addirittura oro non raro, quindi non dovrebbe costare chissà quanto. A concludere questi due triangoli, come prima due vecchie conoscenze, Jetson Fernandes, il quale, insomma, abbiamo visto che a centrocampo può fare tutto, stessa cosa di qua, Emre Khan, per una squadra che qui può essere schierata tranquillamente con un 4-4-2 oppure un 4-2-3-1, quindi in questo video ci andiamo a vedere un po' tutti quelli che sono i moduli buoni, no? Per FIFA 22, che comunque poi sono i moduli che si portano dietro un po' tutti gli anni e per i quali arriveranno anche tattiche, non vi preoccupate. Per quanto riguarda invece il reparto avanzato, qui iniziamo un po' a mixare, perché qui sull'out di destra, nel ruolo di esterno, il primo giocatore che andiamo a selezionare è Rafa, quindi un giocatore che abbiamo visto anche nella squadra precedente. Questi tre giocatori invece sono tre giocatori della Liga che probabilmente all'interno di questa squadra saranno quelli che costeranno di più e questa squadra costerà anche un pochino in più, però voglio dire che comunque all'inizio del gioco i crediti si faranno, non è che dobbiamo stare con 20-30k per un mese, cioè già dopo due settimane ci avremo anche 200-300k, i crediti si faranno, soprattutto con i premi delle Rivals e delle Battles. Esterno sinistro che andiamo a sfruttare è Vinicius Junior, 80 di valutazione, però una carta di tutto rispetto, infatti ha 95 di velocità, 87 di dribbling, probabilmente conferma il suo 5 di skill, 70 di tiro e 71 di passaggio, quindi questo da poter utilizzare sia magari come C.O.C., ma anche sull'out di sinistra come esterno. A concludere invece il pacchetto offensivo, utilizziamo innanzitutto Mateo Scugna, che ha avuto questo trasferimento all'Atletico di Madrid e ha una carta di tutto rispetto, 85 velocità, 78 tiro, 74 passaggio, 84 dribbling, 69 fisico, anche lui magari nel 4-2-3-1 può essere impiegato centrale da C.O.C., in maniera tale che si sfrutta magari Vinicius un po' più largo. E per finire il Wonder Kid portoghese, no? Che un po' dovrebbe ripercorrere quelle che sono le gesta di Cristiano Ronaldo, ovvero Joao Felix. Anche lui dovrebbe mantenere quelle che sono le sue 5 skill. Non so per quale motivo non mi trova Joao Felix in questo momento. Mi sa che evidentemente c'è qualche gioco di accenti che non mi permette di trovarlo all'interno del database. Facciamo un onestissimo copia e incolla in maniera tale che così dovrebbe apparire. Eccolo qua, perfetto. Che dunque conclude quella che è la nostra situazione offensiva. Può essere giocato da seconda punta, anche lui da C.O.C., insomma. Questa è una squadra che costa un po' di più ma ci dà molta più possibilità di gestire al meglio la nostra formazione. Quindi molto molto buona anche questa qui e avete solo l'imbarazzo della scelta per vedere qual è quella che vi piace di più. Fatemi sapere, raga, nei commenti che ne pensate di queste due squadre. Aspetto magari anche qualche suggerimento sui giocatori sui quali volete vedere qualche squad builder. Mercoledì probabilmente quando esce la web app uscirà un video con John dove vi spieghiamo quali carte vendere e quali carte magari tenere. In descrizione vi ricordo che trovate il gruppo Telegram più tutti gli altri riferimenti, piattaforma viola per tutte le live giornaline che ripartono ormai a cannone. A me non resta altro che avugurarvi. Una buona giornata, ragazzi. Saluto da Riberoschi. Ciao.